Ciao a tutti ragazzi, sono di questo video, sono Frank in domanda 3 oggi giocheremo a questo gioco che non mi viene in mente come si chiama però è un gioco molto bello, tipo RSM vabbè che andiamo a picchiare a pugni qua beh, vedi, dobbiamo metterci qua ci siamo legati i joypad, i joystick diciamo ok ok, tenere così vai 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 raga ok come si fa sto gioco ora ti rompo vai 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 bello, bello muore vai ok ragazzi pronti a picchiare ok rms questo gioco è molto bello molto bello è un gioco mi 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 mi